Ciao a tutti ragazzi, qui Alec e benvenuti in un altro episodio di Clash of Clans. Da oggi super novità, a inizio video ve lo dico subito ragazzi, il miglior commento costruttivo sotto questo video, anche il miglior commento divertente, insomma un commento che io reputo speciale sotto questo video. Scrivetemi a fianco al vostro commento anche il vostro nick di gioco su Clash of Clans e la vostra alleanza col tag e più informazioni possibili perché farò il base review al commento più originale sotto il mio video. Quindi sforzatevi di commentare e soprattutto sforzatevi di fare dei commenti fighi così che io poi possa scegliere e selezioni qualcuno per fare un base review a inizio episodio, nel prossimo episodio di Clash of Clans, del villaggio di quello che ha fatto il commento. Ovviamente sarà un base review molto amatoriale così fatto tanto per più che altro per comprare il video e far vedere il vostro villaggio. Detto questo ragazzi partiamo a giocare con Clash of Clans. Stiamo, è da parecchio che non faccio un video, ma in realtà sto portando Clash of Clans settimanalmente. Ho 4 slot liberi, ho parlato dell'aggiornamento, oggi è 20 settembre che sto registrando, domani è 21. In teoria dovrebbe uscire praticamente in questi giorni l'aggiornamento, attualmente quando sto registrando ancora non è uscito. Comunque sia, come siamo messi ragazzi? Siamo messi che le guerre potremmo cominciare a farle nel prossimo episodio. Perché? Perché l'ultimo accampamento sta finendo, in due giorni finisce, quindi poi avremo la capienza massima. Il castello ha finito, quindi ho la capienza massima nel castello. E adesso, come adesso, farò il barbaro in questo episodio, anzi lo metto anche subito a fare. Barbarone livello 19, ragazzi, boom, 85.000 di nero a casa. Una settimana, quindi in pratica quando registro il prossimo episodio dovrei avere il barbaro al 19, la regina al 20, tutta la capienza massima di tutto e quindi posso tranquillamente attaccare. Mi avete rotto i marroni dicendo che i bocciatori all'1 non valgono un cazzo e così oggi porterà un attacco con Valkyrie, Golem, Golem nel castello, Maghi, Spaccamuro e bla bla bla. Vediamo che cacchio riusciamo a fare. Ovviamente sarà un attacco a maturare in Onda War e vediamo un po' come va. Ovviamente mi flammerete perché attacco male, ma a me non me ne frega un cazzo perché io l'ho detto sempre che non sono ancora capace di attaccare a questo gioco, non attacco mai. Non crediate che ci voglia troppo skill ad attaccare, non crediate di essere forti se voi tristellate, poi voi sogna vedere questi tristellamenti vostri. Quando aprite un canale e cominciate a fare video e mi farete vedere quanto siete bravi a fare un commentary live, attaccare in live e fare tre stelle, allora dirò ok, ci avete ragione voi. Detto questo, poi non so perché, ma mi avete detto anche del permaloso perché l'ho sbloccato su Minecraft all'inizio dell'ultimo episodio, perché ho detto di questa cosa di Clash of Clans dell'ultimo episodio, ma sinceramente io non è che ho sbloccato, ho solo detto quello che penso, come faccio sempre. Quindi se voi avete la quota di paglia, qualcuno si è sentito calmato in causa, aveva creato solo flame, l'ho bloccato, l'ho escluso dal canale, perché a me sinceramente questa gente non mi interessa. Comunque ragazzi, probabilmente quando vedrete questo video avete già visto l'episodio speciale con Yakitale su Minecraft, ho registrato con Yakitale, spero di fare altri episodi, bisogna che l'episodio di Minecraft per fare un altro episodio con Yakitale raggiunga i 400 like, quindi lo trovate qui sotto in descrizione. Qui in alto a destra saprete, oltre alla playlist di tutti gli episodi di Clash of Clans, trovate anche questo episodio, andate a vederlo ragazzi perché è veramente figo. Detto questo giochiamo a Clash of Clans, abbiamo messo a fare il barbaro, abbiamo diverso Elisir, l'obiettivo oggi è fare quello che avete votato due o tre episodi fa, cioè i stregoni a livello 6, ma ci manca mezzo milione di Elisir. Però in tesoreria abbiamo 320.000 che andiamo subito a prendere e quindi a fine con l'attacco dovremmo riuscire, basta fare 200.000 di Elisir a raggiungere la quota necessaria. Poi dobbiamo riempire tutti questi slot liberi, tre slot da fare. Ora, siccome non ho abbastanza oro per riempire tutto, abbiamo la Toretta degli Arcieri e il Cannone al 10 che gli manca un livello per arrivare a paro con i restanti, quindi io direi di mettere a fare il Cannone e poi anche la Torre degli Arcieri. E praticamente abbiamo finito tutto. Abbiamo l'Elysir che però ci serve per il Mago, qui soltanto ho dell'oro da prendere che era bloccato, ma non dovrebbe essere tantissimo. Beh, oddio. Ah, erano 200.000 circa bloccato, ok. Non abbiamo piantine, abbiamo 130 gemme, quindi l'altro slot non so cosa metterò a fare, probabilmente una trappola, anche se le ho già messe a fare ragazzi. Comunque, facendo il resoconto, abbiamo le Torre Inferno al livello 2, questo Arca X che deve salire al 3 per andare a paro con gli altri Archi X. E adesso il Cannone e la Toretta accese sono a pari. In realtà ho ancora da mettere a fare il famosissimo, la famosissima trivella di Elysir, che ancora sta lì al livello 1. Gli estrattori nuovi stanno tutte e due al livello 9, sì, quindi quelli toccherà ancora portarli 2-3 livelli sopra. Ho messo a paro le trappole aeree, sì, l'avevo fatta salire, mi sembra, quella che stava ancora al 3, quella nuova. Quindi in pratica adesso ce le ho tutte al 4. Quando non c'ho niente da fare, faccio salire queste. Ecco, forse questa all'1 si potrebbe far salire, ma necessita di un milione di ore, di due milioni di oro. Io ho solo un milione, non credo che con attacco farò un milione d'oro, quindi non lo so, probabilmente lascerò lo slot libero. Però voglio fare gli stregoni a livello 6, che sono molto forti. Quindi, detto questo, in guerra ci siamo, ovviamente io non sto partecipando, alla prossima parteciperò. Andiamo, anzi, adesso che me lo sono ricordato, è meglio mettere lo stato, quello che sono disponibile a fare guerre. E ovviamente si fa da profilo. Guerra tra clan, partecipo. Quindi alla prossima, in teoria, anche perché molti che mi seguono fanno parte dell'alleanza, e quindi in teoria, alla prossima, dovrei riuscire a partecipare e spero di poi farvi vedere o gli attacchi, se riesco in live, altrimenti replay degli attacchi. Detto questo, let's go to attack, bitch. Non vi faccio votare in un sondaggio nessuna altra struttura da fare, perché già avete votato la Torre Inferno all'Ello 3, quindi è la prossima cosa che farò. E probabilmente poi farò l'Arco X, maxerò le Torre Inferno, e poi la prima cosa che farò salire, probabilmente, sarà proprio gli archi X, e per poi andare a livellare tutte le altre strutture, una volta torte le Torre Inferno e gli archi X, poi le restanti cose sono le meno costose e quelle soprattutto meno lunghe, anche se io penso che andrò a fare, prima di tutto, le Torri del Mago, perché mi piacciono e sono fighe. E poi i mortai, per poi chiudere con Torrette degli Arcieri, Tesla, cannoni e tutto quello che è, in un ordine boh. Nel frattempo farò salire comunque gli eroi, l'obiettivo adesso sarà, la prossima cosa sarà il Barbaro al 20, così che sta a pari alla regina e si potenzia anche il suo potere, e soprattutto, ragazzi, è far salire i bocciatori, perché io intendo usare bocciatori e minatori per attaccare in guerra, non le Valkyrie, perché con le Valkyrie, non lo so, devo vedere un attimo, mi sembra di trovarmi meglio con i bocciatori, le Valkyrie è molto sempre dipendente da si entrano, dove vanno, come vanno, questo ragazzi è un villaggio arabile, è un livello 9, non ha le Torre Inferno, ha il Barbaro al 6, non vedo la Queen, ecco, la Queen al 5, se faccio un fail, faccio un fail sicuro, ma sono veramente un nabbo di merda, perché, ragazzi, non... è molto complicato failare contro questo villaggio, credo almeno, e poi, ragazzi, se non TH10, Ralex, se non Tristelli e non TH9, non vale un cazzo, fighe, fanculo, maledetti bastardi, allora, mettiamo questi golem qua, ok, e mettiamo un paio di maghi così, poi, ma andiamo... ah, non ho il Barbaro, perché l'ho messo a fare, come al solito, ragazzi, come al solito, andiamo a mettere 3 spaccamuro, che dovrebbero aprire breccia, perfetto, ho messo le Valkyrie senza fare pulizia fuori, adesso rischiamo che queste, no, ecco, convergono verso l'interno, andiamo a mettere subito una cura qui, e poi io direi di mettere una furia qui al centro, ok, e di mettere i maghi restanti dietro, andiamo a mettere gli spaccamuro, tante volte arrivano in tempo, andiamo a seguire queste Valkyrie, ragazzi, perché non so minimamente dove cazzo stiano andando, metto una cura lì, e preparo al jump qua, ok, e metto una furia qua, stanno morendo, non le vedo più, ragazzi, non vedo un cazzo, ragazzi, le ho infuriate, le ho curate, e lì stanno ancora spaccando, e probabilmente questo sarà un fail della Madonna, perché vedo che... praticamente sono morte tutte, sono morte tutte, i maghi sono ancora vivi, in realtà, sì, sono morte, ma hanno... ah, no, ce ne stanno due esterne, non si sa per quale motivo sono esterne, e i maghi sono ancora vivi, li ha distrutto la torretta del mago molto bene, c'è il golem vivo lentissimo, ragazzi, che probabilmente non si schiola da là, ok, ora quella torretta degli arcieri, il problema è che mi farà fuori il mago, è rimasta solo la Queen, è rimasta la Queen, non so se riuscirà a fare pulizia, questo golem qua è bloccato praticamente, è rimasto il cannone, il problema è che adesso la Queen verrà fatta fuori, in pratica, dal cannone, a meno che io, ecco, non faccia questa cosa, perfetto, la Queen ha preso portata, ha preso il cannone, perfetto, non so se riuscirò a fare le tre stelle, penso di sì, perché adesso... ma ci stanno tutte e due golem ancora vivi, what? Praticamente inutili, però andranno a distruggere almeno quello, e la Queen sta cercando di passare, e vabbè, deve andare solo verso il cannone, in pratica, e i golem dovrebbero precederla? No, prenderà l'aggro del cannone, ma dovrebbe tranquillamente riuscire a sconfiggerlo, insomma, senza morire, quindi è 100%, non è stato un grandissimo attacco, però per chi hanno spaccato ovviamente è mezzo villo, quindi poi il resto l'hanno fatto le altre truppe, quindi ho tristellato il TH9, non rompete i coglioni, era semplice, però insomma, è stato un discreto attacco, abbiamo preso un discreto bottino, e possiamo fare i stregoni al 6, tranquillamente, ci metteranno 14 giorni, tipo in infinità, due settimane sarà bloccato il laboratorio, e poi dopo le due settimane probabilmente... in realtà mi andrebbe anche di fare questi draghetti, però a livello 5, però... ora vediamo un attimo, vediamo un attimo, anzi facciamolo sto sondaggio, va, votate voi se la prossima truppa da sviluppare, volete i draghi al 5, oppure i bocciatori a livello 2, io faccio quelli o faccio i draghi, vorrei fare queste due unità, quindi votate voi, qui in alto a destra trovate la i, se cliccate aprite le schede, ci sono gli ultimi episodi, è tutta la playlist degli episodi di Clash of Clans, c'è l'ultimo episodio di Minecraft con Yagitale che è uscito ieri, e ci sarà anche questo sondaggio, quindi votate draghi al 5 o bocciatori al 2, ditemi voi quello che pensate che sia meglio che io faccia. Ho uno slot libero, mi dispiace, non è mai successo che avanzasse uno slot libero, amen, non posso fare neanche pezzi di mura, perché come sapete sto facendo quelli al 10, ma necessito di 3 milioni, quindi con quel milione e mezzo di Alisir non so veramente che cazzo farci, probabilmente di oro, probabilmente me lo tengo e lo userò poi, anzi no, perché posso tranquillamente fare questa, un estrattore, perfetto, 3 giorni e GG, almeno facciamo anche quelle, quelle bisogna portarle a paro perché comunque poi quando sono maxate ti portano quelle risorse giornaliari non indifferenti, quindi è meglio portarle al massimo e farci dare una mano. Detto questo ragazzi, spero che l'episodio vi sia piaciuto, ho fatto 3 stella alla faccia vostra, ma magari avrete anche comunque la faccia di direte nei commenti, sì ma vabbè che ha detto 3 stella perché quello era uno scandalo di villaggi, in realtà è stato tipo di merda, fottetevi, e quindi, spero che l'episodio vi sia piaciuto, lasciate un like, ragazzi condividete il video ai vostri amici su Facebook, sui social, quando potete fatelo ragazzi per crescere insieme, raggiungiamo sempre i 400 like, se raggiungiamo i 600 like in questo episodio uscirà un doppio episodio questa settimana di sabato, se raggiungiamo i 600, se non li raggiungiamo niente doppio episodio. Iscriviti al canale se non è fatto, tale che è tutto, ci vediamo al prossimo episodio, un saluto.